I cittadini direttamente che ci stanno ascoltando e che hanno magari qualche dubbio, cosa diciamo, perché vaccinarsi, professor Di Perro? La vaccinazione è un atto che ha due finalità, innanzitutto di proteggere se stessi. Ho visto morire molte persone più giovani di me e quindi vale per me questa istanza del proteggermi, eccetera. A differenza di altri vaccini, questo è anche un vaccino altruistico, proteggendo me stesso faccio sì che io, non essendo vulnerabile e suscettibile, non acquisisca l'infezione così non la trasmetto agli altri. È un po' un gioco di pedine, insomma, in cui ci sono tutta una serie di precauzioni da prendere. L'esempio che le faccio per distinguere questo tipo di finalità è il vaccino, per esempio, antitetanico. Quello protegge solo se stessi, è una decisione veramente personale. voglio non essere a rischio per il tetano oppure non me ne importa nulla. Ma le conseguenze saranno soltanto mie, eventualmente. In questo caso no, è una scelta collettiva. Una scelta collettiva è un momento drammatico, sicuramente il momento più drammatico a partire dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Grazie a tutti.